ciao a tutti concludiamo la settimana con la lezione di donificazione sempre una parte centrale di parecchi esercizi questa volta soprattutto per le braccia con i pesetti o con le bottiglie d'acqua come volete io sono i pesetti a due chili voi magari usate le bottiglie d'acqua da un litro e mezzo oppure da mezzo litro se se avete meno allenamento bene quindi cercare di stare attenti alle posture soprattutto quando utilizzate i pesetti è sempre un discorso diciamo a tempo quindi dovete dovrete eseguire l'esercizio per una quarantina di secondi poi la velocità con cui lo fate è soggettiva ecco perché la lezione è adatta a tutti i livelli di allenamento dal principiante all'avanzato l'avanzato come vi dico sempre magari farà gli esercizi con più ritmo con più con più forza e quindi magari farà più ripetizioni nei 40 secondi e poi ci sarà la pausa di 20 secondi come al solito potete modificare gli esercizi a vostro piacimento sempre correttamente chiaramente o sostituire un esercizio che magari non è a voi congeniale ok ci avremo sempre prima della parte centrale un riscaldamento e alla fine un una parte diciamo di allungamento e di cool down ok cominciamo subito con riscaldamento ok 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 ecco ok ecco ok 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 ecco 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 Grazie per la visione 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 Grazie per la visione